Repulisti in vista in Casateramo. Sarà un mercato di grossi cambiamenti quello che prenderà il via domani e non può essere altrimenti. Per una squadra che ha giocato una pessima prima parte di stagione, anche più di quello che la classifica dice, con un diavolo in piena zona play-out a tre punti dalla salvezza, ma anche a tre punti dall'ultimo posto, il 2016 si è chiuso come peggio non si poteva. Il pareggio incassato al 93esimo col Lumezzane e soprattutto la sconfitta in rimonta a Bassano hanno esasperato il clima. Quei giocatori che non si sono voluti presentare in sala stampa dello stadio mercante per commentare la sconfitta e le parole al veleno del vicepresidente Cimini verso di loro. Il DS Bolla ha parlato di necessità di cambiare giocatori che non sono da Teramo. Con questo clima c'è stato il rompete le righe in attesa di tornare al lavoro la prossima settimana. Il campionato tornerà il 22 di gennaio quando al Bonolis arriverà la corazzata Pordenone. Per allora ci sarà un Teramo rinnovato, non in panchina però. Qualcuno aveva ipotizzato che il patron Luciano Campitelli potesse dare il secondo ben servito a Lamberto Zauli. Quattro pareggi, quattro sconfitte e zero vittorie finora nel suo doppio mandato, salvo confermare che invece il Teramo proseguirà con l'ex tecnico del Sant'Arcangelo e con lui saranno condivise le scelte che dovranno ristrutturare la rosa. Tra i tanti giocatori a rischio c'è anche un fedelissimo di Zauli come Davide Peterman, tra le delusioni principali della stagione. Nello stesso reparto potrebbero lasciare Demetrio Steffè e Danilo Bulevardi, ma in quest'ultimo caso, visto il buon rendimento offerto, non sarebbe una bocciatura semmai un percorso di ascesa professionale in Serie B con la regia del Pescara. In difesa i nodi sono Caidi e Sales. L'ex carrarese ha reso molto al di sotto dell'attese. Caidi pagherebbe la presenza di Capitanio, ma privarsi di un giocatore legato alla piazza e che in questi anni ha dimostrato di essere di notevole affidabilità, sembra un azzardo. Per l'attacco valigie pronte per Luca Forte, l'infortunio hanno pregiudicato la parentesi terramana di Jefferson che potrebbe tornare alla Latina. Dovesse restare Sanzovini bisognerà prelevare un centravanti capace di giocare in tandem col sindaco e sarà fondamentale non steccare i colpi in entrata in mediana, dove servono come il pane, esperienza e leadership per invertire la rotta.